E quindi cosa ne pensi di Luis Salle? Difficile dare un parere, è molto divertente, però non lo capisco tanto. Effettivamente non sei l'unico a dirlo. Ma per te è un artista. Non credi si possa definire arte? Sei Vittorio Sgarbi per caso. La cosa più artistica che hai sono i Funko Pop. Beh... No, dico sul serio, sono solo dei giocattoli, mentre Luis fa video che ti fanno pensare. Penso molto guardando i miei Funko Pop, quello di Iron Man mi fa anche piangere. Sì, beh, sarà anche strano da dire, ma forse le mie domande troveranno risposta proprio sul canale di Luis. L'ho anche tatuato. Mica sarà quella macchia sul petto. Fammela rivedere. No, no, che fanatica. Voglio proporti una sfida. Ti inventi un nuovo format. E sfondi su YouTube. Che format? Te lo devi inventare tu. Ma deve essere veramente assurdo, capisci? E inoltre devi fare gli stessi numeri di Luis. Ti andrebbe? Prima però devi spiegarmi cos'è YouTube. Chiama ranzulla. 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 Chiama ranzulla.